Musica Ancora buongiorno all'apertura dedicata a una notizia di cronaca di ieri sera. Come riporta il nostro sito di Antena Sud, Bari uccide la moglie e poi si toglie la vita. Un uomo di 84 anni avrebbe ucciso con un colpo di pistola la moglie 83enne per poi togliersi la vita con la stessa arma. E' accaduto a Bari ieri sera il servizio di Antonio Bucci. Ai contorni di un omicidio suicidio un uomo di 84 anni avrebbe ucciso con un colpo di pistola la sua moglie 83enne per poi puntarla contro se stesso e togliersi la vita con la stessa arma. I fatti nel capoluogo in un appartamento di Via Lucarelli al quartiere Poggio Franco nel tardo pomeriggio di venerdì. Secondo quanto emerso infatti pare che l'anziana fosse malata da tempo e costretta a letto e a ritrovare i corpi. Sarebbe stato il figlio della coppia che una volta rientrato all'interno dell'abitazione avrebbe chiamato i genitori senza però ricevere risposta. Poi il ritrovamento di entrambi ormai esanimi in camera da letto sarebbe stato lui a chiamare i soccorsi ma senza risultato. Il personale sanitario infatti non ha potuto fare altro che constatare il decesso dei due anziani. Sull'accaduto adesso indagano i carabinieri che avrebbero già trovato e sequestrato l'arma utilizzata. Ed ora la politica ovvero la nomina commissario europeo del ministro Fitto. Il governo infatti ufficializza la candidatura di Raffaele Fitto al ruolo di commissario dell'Unione Europea per quanto riguarda l'Italia. Alla fine senza troppe sorprese arriva l'ufficialità dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni che indica Raffaele Fitto commissario europeo per l'Italia. Lo fa durante il CDM, elogia il ministro del Sud parlando di una persona che ha una grandissima esperienza, che ha saputo governare le deleghe che gli sono state affidate in questo governo con ottimi risultati. È una scelta dolorosa per me, spiega la Premier, credo anche per lui e per il governo, ma è una scelta necessaria, chiedendo a tutti in sala di rivolgere un applauso e un grande in bocca al lupo a Raffaele, che avrà davanti un compito estremamente complesso e allo stesso tempo entusiasmante. Continuiamo a lavorare sul ruolo che chiediamo venga affidato all'Italia. Non ho motivo di credere che quel ruolo non verrà riconosciuto, dice la Premier, non per simpatia o antipatia verso il nostro governo, ma perché siamo l'Italia, nazione fondatrice. Una giornata impegnativa per l'esecutivo alle prese con il primo vertice del centro-destra dopo la pausa estiva a cui hanno preso parte Meloni, Salvini, Tajani e Lupi, leader che hanno rinnovato il patto di coalizione con l'obiettivo di portare a compimento le riforme messe in cantiere e attuando il programma votato dai cittadini. Sotto la lente, la prossima legge di bilancio sarà seria ed equilibrata, fanno sapere, e confermerà alcune priorità come la riduzione delle tasse, il sostegno a giovani, famiglie e natalità e interventi per le imprese che assumono. Prima della nomina da parte del Consiglio dei Ministri di Raffaele Fitto a Commissario Europeo per l'Italia c'era stato un incontro sui fondi di coesione per la Puglia tra il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il Ministro Fitto. Michele Emiliano e Raffaele Fitto di nuovo faccia a faccia. Il primo, il governatore pugliese, ha chiesto di anticipare una quota di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione da destinare alla Regione per circa 1,6 miliardi di euro relativi a interventi ad elevato livello di urgenza e di attuazione in cinque ambiti di applicazione. Il secondo Ministro competente, Sima, dalle prossime ore, anche Eurocommissario Inpectore nell'esecutivo di Ursula von der Leyen si sono incontrati nella Capitale ed esprimono soddisfazione. Emiliano parla di disponibilità e concretezza operativa sulla richiesta di anticipazione e anche sulla sottoscrizione dell'accordo di coesione. A quanto raccolto il Capo della Giunta, l'interlocutore avrebbe espresso apprezzamento per il lavoro congiunto svolto dalla Regione con gli uffici ministeriali di verifica sullo stato di attuazione dei programmi sulla politica di coesione, specie su quelli che impiegano risorse nazionali, e poi la richiesta della Regione Puglia di individuare in maniera preliminare i progetti tra quelli proposti che risultino coerenti con gli obiettivi e le scadenze del piano di ripresa in resilienza. Se lascia passare sarà, ci saranno dentro i temi della transizione ecologica e 2 miliardi di investimenti sulla crescita del sistema regionale delle imprese e del mercato del lavoro. Intanto c'è il cambio di tono e il gentleman agreement tra Michele e Raffaele. Ed oggi, ultimo giorno del Kermes La Piazza in corso di svolgimento a Ceglie Messapica, vediamo i risvolti della seconda serata nel servizio di Maria Teresa Carrosso. Oggi si aprirà la terza giornata di questa Kermes La Piazza, una Kermes molto attesa, una terza giornata che vedrà anche oggi dei grandi ospiti a confrontarsi, attesa per il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, e un altro ospite d'eccezione sarà Ottaiani. Ma intanto vediamo cosa è accaduto ieri nella seconda serata di Kermes La Piazza, qui in diretta a Ceglie Messapica. Tanti temi affrontati in questo secondo giorno della piazza. Presente Emanuele Orzini, Presidente nazionale di Confindustria, che ha approfondito e intervistato dal Direttore Perrino il tema delle opportunità di lavoro per i giovani e la necessità che le aziende si impegnino a fornire degli alloggi per i lavoratori pendolari. In collegamento dalle moto, il Ministro Salvini ha negato ogni accenno a eventuali crisi di governo. In collegamento anche il generale Vannacci. Al centro i fondi PNRR, che alle volte non sono proprio alla portata dei comuni. Perché spesso i progetti o non ci sono o sono stati fatti in fretta, quindi con delle ovvie problematiche. A quello si aggiunge il problema dei pagamenti. Molte amministrazioni non hanno le somme di sostituzione per dare le anticipazioni previste per legge o per pagare puntualmente i sal. A quello si aggiunge che per i cantieri che ancora non sono partiti, non comprendo come si può fare a completare le opere entro il 31-19-2025, poiché la Ragioneria Generale dello Stato ha detto chiaramente con una nota il 31 maggio 2024 che il tutto deve essere rendicontato entro il 21 giugno 2026. In Italia per fare un collaudo in sei mesi bisogna correre, quindi significa che noi nel giro di un anno dovremmo finire le opere. Grande assente il Ministro Raffaele Fitto, neocommissario europeo, che ha annullato la sua partecipazione all'evento. Ed ora all'ampia pagina di cronaca, ci spostiamo a Trani, mosso da una furia omicida, un 41enne di Trani avrebbe tracinato sua moglie in periferia, nei pressi del cimitero, per picchiarla e provare a strangolarla. Il servizio riguarda quello che è accaduto ieri a Trani, tenta di uccidere sua moglie nei pressi del cimitero, arrestato un 41enne. A salvare la donna sarebbero stati alcuni ragazzi che avendo assistito alla scena hanno tempestivamente allertato i carabinieri. Avrebbe tracinato fuori dall'auto sua moglie per poi picchiarla con una violenza inaudita. L'ha colpita alla testa con il calcio di una pistola per stordirla e portarla al cimitero dove l'avrebbe ammazzata. Per questo un 41enne di Trani è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio aggravato. E' successo la notte fra il 20 e il 21 agosto, intorno all'una e mezza l'uomo, un pregiudicato, ha raggiunto l'abitazione in cui la donna viveva insieme ai loro tre figli. Sotto casa, in auto, sua moglie era in compagnia di un loro amico. E' subito scattata la furia, ha iniziato a colpire la donna alla testa con una pistola che deteneva illegalmente, poi ha colpito l'amico che è riuscito a fuggire. La rabbia lo aveva accecato. Ha fatto salire la moglie a bordo della sua auto per portarla vicino al cimitero e ucciderla, si legge nell'ordinanza di arresto emessa dal GIP del Tribunale di Trani, Carmen Anna Lidia Corvino. Inutili i tentativi per lei di fuggire, l'uomo l'ha afferrata per il vestito e scaraventata a terra, per poi colpirla con calci ai fianchi. La donna ha poi chiesto aiuto ad alcuni ragazzi presenti nelle vicinanze, minacciati dall'uomo di allontanarsi con l'ammazzata baseball. «Ammazzò sia te che lui», le avrebbe urlato, trascinandola vicino al cancello del cimitero nel tentativo di strangolarla. La donna era sanguinante e lui decide di farla salire in auto e andare via. Intanto i ragazzi avevano avvertito i carabinieri. L'uomo è stato arrestato e la donna portata al pronto soccorso dell'ospedale di Andrea. La pistola con la quale il 41enne avrebbe aggredito la moglie è stata poi recuperata e sequestrata. «Arrestatemi pure, tanto quando esco, vediamo», avrebbe detto l'uomo durante l'arresto, come si legge nell'ordinanza. Durante l'interrogatorio ha negato di aver mai voluto uccidere sua moglie. Ci spostiamo invece nel Tarantino, all'Eporano. Un grosso incendio è divampato ieri nel deposito dell'azienda che si occupa di raccolta differenziata all'Eporano. I danni subiti dalla ditta sono ingenti. Una spazzatrice e 11 compattatori distrutti. Con questo bilancio l'azienda Impregico, affidataria del servizio di raccolta rifiuti per il comune di Leporano, dovrà ora fare i conti a causa del vasto incendio che ha colpito il parcheggio dei propri mezzi situato tra via per Porta Taranto e la strada vicinale Santa Lucia. Il loro uogo, partito intorno alle 13 di venerdì 30 agosto, sarebbe stato innescato dal motore di uno dei camion della nettezza urbana, propagandosi rapidamente sugli altri veicoli fermi in deposito. Fiamme fortunatamente domate grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Leporano che sono riusciti a spegnere l'incendio esteso anche al di fuori dell'aria. Sul posto sono intervenuti rapidamente anche la protezione civile, i vigili urbani e le forze dell'ordine locali che hanno riportato la situazione sotto controllo. Anche il sindaco di Leporano, Vincenzo Damiano, si è recato sul luogo accompagnato dal vice sindaco e assessore all'ambiente Danilo II e l'assessore al turismo Yolanda Lotta per incontrare i titolari dell'azienda e comprendere non solo i danni subiti dalla ditta ma anche come gestire il servizio di raccolta rifiuti per la cittadinanza. Siamo molto vicini all'azienda perché ha subito un grossissimo danno. Ora insieme al responsabile Danilo Marra sicuramente si sta mettendo già all'opera per riorganizzare il servizio perché purtroppo avemo delle grosse difficoltà e chiediamo a tutti i cittadini di collaborare insieme alla ditta perché sicuramente ci saranno dei dati però mi stanno assicurando che il servizio di raccolta domani ci sarà. Saranno ora gli investigatori a indagare sulle cause precise dell'incendio determinanti. ci saranno i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nel parcheggio. E poteva essere una strage la frase che da ore si ripeta nella piccola comunità di Latiano. Ecco, questo è il video shock ripreso da una telecamera posta nella zona. Tre secondi e poi il cedimento strutturale che è stato ripreso da diverse telecamere e il rumore provocato dal crollo ha fatto scendere in strada decine di persone. Da oggi inizierà la conta dei danni per i proprietari dell'attività in attesa di quelle che saranno le valutazioni della Procura per avviare la bonifica della zona dalle macerie. Il servizio, il resoconto di ieri è da parte del nostro Michele Giurano. Hanno cercato per ore sotto le macerie i vigili del fuoco senza però trovare nessuno perché è una fortuna che quell'antico palazzo ristrutturato un ventennio prima oggi sede di una rivendita di detersivi e prodotti per la casa si è crollato di notte poco prima delle 4 di venerdì mattina quando nessuno era al lavoro quando nessuno per fortuna passeggiava in strada o transitava con la sua auto su via Francavilla nel centro abitato di Latiano. Sarebbe stato un crollo strutturale a far collassare su se stesso il vecchio edificio. Le cause sono comunque in corso di studio da parte degli specialisti dei vigili del fuoco coordinati dalla Procura di Brindisi e sul posto insieme a Carabinieri Polizia Locale 118. Le ricerche di eventuali feriti coadiuvate dal fiuto di cani molecolari e dalle più moderne tecnologie hanno dato esito negativo. Tutte le informazioni assunte finora da telecamere e da sommarie informazioni testimoniali ci dicono che non c'è nessuno sotto le macerie. Al momento specialisti e investigatori escludono il dolo servirà comunque tempo per tutte le verifiche del caso. La convinzione è che non si sia trattato comunque di un atto doloso ma come dire... Nel momento si parla di un crollo strutturale un cedimento strutturale dell'immobile. Ci sono interventi ci saranno interventi anche per quanto riguarda le abitazioni vicine per quanto riguarda i residenti? Sicuramente questa zona sarà messa in sicurezza la struttura sarà sottoposta a sequestro e questa strada sarà vietata al traffico. Insomma bisognerà attendere per determinare con certezza le cause del crollo e invece è certo che si tratti di una tragedia evitata di un vero e proprio miracolo. Noi abbiamo ascoltato anche le dichiarazioni di chi stanotte si è svegliato e stato svegliato di soprassalto dal forte boato. Ascoltiamole. Stavo dormendo poi mi sono svegliato perché sono fatto il temporale. Ho sentito un rumore un rumore un forte rumore però nel sonno sinceramente non mi sono resa conto di niente. Quattro meno un quarto circa abbiamo sentito un forte tonfo un rumore proprio sordo. Prima c'è stato un rumore un po' più forte ma nel sonno uno non realizza subito. E poi siamo usciti fuori c'era buio pesto perché le luci si erano spente c'era un polverone e arrivava dietro un camion che era una spazzatrice ha illuminato la scena subito non si capiva che cosa fosse successo. Cosa sarebbe accaduto se questo crollo si fosse verificato di giorno? Nel negozio frequentato tra i dipendenti titolare e le persone che c'erano dentro sicuramente qualcuno rimaneva sotto le macerie vivo o morto tragedia sfiorata. Sì diciamo di sì per fortuna. E sul nostro sito di Antenna Sud terribile schianto sulla statale 106 tre auto coinvolte sei feriti un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di venerdì 30 agosto sulla statale 106 all'altezza dello svincolo per Chiatona tre automobili sono rimaste coinvolte nello scontro sul posto sono accorse sei ambulanze del 118 per soccorrere feriti le cui condizioni fortunatamente non risultano gravi i vigi del fuoco sono intervenuti per rimuovere il veicolo ribaltato l'incidente è avvenuto nel territorio di Palagiano con gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi durante le operazioni di soccorso il traffico è stato deviato causando lunghe code in direzione di Taranto ed ancora la cronaca Brindisi neanche 24 ore dopo essere stata oscurata dalla polizia postale su disposizione della DDA di Lecce è riapparsa su TikTok la pagina contro i collaboratori di giustizia Brindisini è ricomparsa con lo stesso titolo e una grafica identica quasi a voler sfidare la direzione distrettuale antimafia di Lecce che attraverso la polizia postale aveva oscurato quella precedente la pagina pentiti Brindisini riappare sulla piattaforma di TikTok anche se per il momento evita di pubblicare come invece era stato fatto in quella precedente foto e nomi di collaboratori di giustizia e presunti confidenti sino a venerdì notte due dei tre post della nuova pagina contengono nostri servizi sull'argomento andati in onda nel TG di Antena Sud il terzo è lo screenshot del titolo del nuovo quotidiano di Puglia che annuncia la chiusura della pagina da parte della DDA con il sottofondo della sigla del telegiornale l'anonimo autore sembra voler dimostrare di non aver timore di essere identificato dall'antimafia anche se per il momento evita di pubblicare come aveva fatto precedentemente le foto i documenti e le accuse che hanno fatto scattare l'oscuramento della prima pagina è probabile che nelle prossime ore la polizia postale procederà a bloccare anche questa ma nel frattempo le indagini proseguono sui contenuti della prima coordinate dal procuratore aggiunto della DDA di Lecce Alberto Santa Catterina il reato ipotizzato e di minacce aggravate dal metodo mafioso e dall'agevolazione dell'associazione mafiosa ma le denunce che stanno arrivando da alcune delle persone inserite nell'agonia della pagina aprono un fronte giudiziario che comprende la diffamazione la calunnia e la violazione della legge sulla privacy il primo obiettivo degli inquirenti resta comunque identificare l'autore e l'eventuale regista di quello che sembra un piano destabilizzante contro i collaboratori di giustizia Brindisini e torniamo sul nostro sito Manfredoni albero cade e ferisce gravemente due persone è caduto ieri sera scrive la nostra Antonella Davola paura in villa comunale dove intorno alle 19 il ramo di un albero è caduto causando il ferimento grave di due anziani entrambi e li trasportati in codice rosso a San Giovanni Rotondo sul posto oltre agli operatori del 118 sono intervenuti i carabinieri i vigili del fuoco e polizia locale e ci spostiamo nel Tarantino parlando di prevenzione e sicurezza queste le parole chiave affrontate nel corso del consiglio comunale monotematico a Pulsano a un mese esatto dal rogo di Lido Silvana una chiamata rivolta ai cittadini e alle istituzioni per riflettere approfondire e prevenire soprattutto per non dimenticare l'incendio che esattamente un mese fa ha devastato Lido Silvana Marina di Pulsano nel quale l'anziana Rita Fasanella ha perso la vita il consiglio monotematico nell'auditorium Papa Giovanni Paolo II di Pulsano ha ripercorso il bruciante ricordo del rogo un altro 23 anni dopo quel 25 giugno del 2001 questa data insieme al 30 luglio scorso sono ricordate dal sindaco Pietro D'Alfonso accanto e di fronte a una schierata di autorità politiche e pulsanesi che hanno presenziato nell'aula di Via Caduti di Nassiria si discute per trovare delle soluzioni concrete di prevenzione affinché questi drammatici episodi possano non accadere più in particolare chiediamo aiuti dove possibile finanziamenti per creare un impianto di videosorveglianza considerando che la maggior parte anzi se non la totalità degli incendi sono tutti di natura dolosa e chiediamo l'installazione di idranti che possano favorire lo spegnimento immediato delle fiamme in caso di nuovi incendi e poi l'acquisto di mezzi che possano essere utili nell'immediatezza del propagarsi delle fiamme nell'attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco e poi uno studio approfondito dal punto di vista agronomo per capire un po' quelle che sono le difficoltà del territorio delle richieste precise necessarie finché la marina di Pulsano possa rialzarsi ci siamo sentiti come dire in dovere di sostenere le iniziative del comune di Pulsano iniziative che evidentemente non possono che procedere nella direzione di magari maggiore prevenzione di maggiore sensibilizzazione dei residenti adesso ci aspettiamo insomma che vengano presi dei provvedimenti anche a livello regionale provinciale e nazionale importanti per Pulsano ed ora ci spostiamo sullo nuovo quotidiano di Puglia sanità nel mirino si parla ormai da tempo della sanità nel mirino parla il medico dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto colpito dal figlio di un'anziana deceduta non mi dimetto ne andrò via ho scelto di stare qui la violenza l'utenza poca pazienza ma noi diamo sempre il meglio il titolo l'aggressione subita si lavora senza sosta non meritiamo questo e poi l'agosto nero l'escalation in estate tra medici e infermieri si contano almeno nove aggressioni salite agli onori della cronaca soltanto ad agosto da Foggia a Lecce l'indagine violenza è subita nel 42% dei casi il 42% degli operatori sanitari ha segnalato alla regione in un'indagine conoscitiva di aver subito violenza fisica o psicologica sul posto di lavoro Amati si proceda con aziende a zero e gli infermieri intervenga il prefetto per il consigliere regionale è necessaria una rivoluzione organizzativa nella regione per il responsabile dell'ordine degli infermieri si attendono da troppo tempo nuovi assunti ed ora ci spostiamo a Foggia per una notizia paga il parcheggio all'abusivo ma al suo ritorno trova le gomme bucate è accaduto a Foggia buonasera rivolgo questo messaggio alla sindaca episcopo di Foggia in pratica sono stata in centro ho parcheggiato su un parcheggio a pagamento le strisce blu c'era un signore abusivo ovviamente paga il parcheggio per le strisce è il parcheggio all'abusivo sta facendo il giro del web il video messaggio di una cittadina foggiana esasperata che lancia un appello alla sindaca raccontando la propria disavventura avvenuta tra l'altro in pieno centro cittadino a pochi passi da palazzo di città dopo aver pagato regolarmente il parcheggio e aver lasciato anche una mancia di 50 centesimi al parcheggio a Torabusivo la donna racconta di aver subito il dispetto delle gomme forate insomma al danno la beffa lui si è arrabbiato già che io non mi fossi fermata dove lui voleva ma poi anche il fatto stesso che gli avessi dato soltanto 50 centesimi quindi sono scesa con il mio bambino siamo andati in un negozio lì vicino 5 minuti 10 minuti al massimo ritorno al parcheggio lì non c'era però la mia macchina segnalava che c'era un foro alla ruota al pneumatico quindi mi reco dal benzinaio per capire un attimo se fosse forato o meno e in pratica dopo poco tempo la spia si riaccende e quindi vado dal gommista per sistemare un attimo il gommista mi dice che era un dispetto perché la gomma non aveva un chiodo ma era stata forata lateralmente e quindi mi chiedo se una persona vuole uscire in centro rilassata e fare una passeggiata deve già pagare il parcheggio che è stato già aumentato di recente ma poi insomma incappa anche in queste disavventure e quindi chiedevo con un video fatto alla sindaca insomma che sistemasse un attimo la questione perché poi voglio dire questa problematica non c'è soltanto in questa piazza dilaga in tante piazze perché poiché non ci sono più gli ausiliari a controllare i parcheggi purtroppo dilaga questa tra virgolette delinquenza delinquenza che poi voglio dire a me dispiace anche delle persone che poi si ritrovano a fare gli abusivi però magari non hanno un lavoro non ho nulla contro di lui però mi rivolgevo alla sindaca appunto che potesse risolvere queste situazioni e ora tracciamo un bilancio delle attività estive con il comandante provinciale dei carabinieri di Trani Massimiliano Galasso siamo un territorio fortemente vocato all'imprenditorialità e purtroppo anche nelle nostre manifestazioni criminali continuiamo a manifestare questa vocazione al mercato una mafia degli affari si potrebbe definire quella descritta dal comandante provinciale BAT dei carabinieri Massimiliano Galasso che ai nostri microfoni ha descritto il quadro del territorio a nord di Bari la parcializzazione e il dinamismo dei fenomeni associativi continuano a caratterizzare l'intero scenario mafioso in cui le diverse costellazioni di clan e sodalizi proseguono il loro percorso verso l'acquisizione di forme imprenditoriali sempre più complesse e strutturate il fatto che ci siano meno reati di sangue in generale derivanti da episodi di criminalità organizzata non significa che la criminalità organizzata sia diminuita significa che la criminalità organizzata sia evoluta adesso non c'è probabilmente più bisogno di confrontarsi sul territorio ma c'è bisogno di confrontarsi con altre armi e sono quelli dell'imprenditoria al centro del lavoro di contrasto c'è non in seconda battuta la violenza di genere tema su cui l'arma dei carabinieri insiste al fine di ricevere il massimo numero di denunce il codice rosso continua ad avere dei valori costanti di allarme è un allarme nazionale noi stiamo facendo non tutto quello che è possibile di più stiamo facendo il porta a porta dobbiamo portare le denunce nelle nostre caserne dobbiamo portare questi episodi fuori dai contesti domestici quest'estate siamo riusciti a evitare dei fatti di sangue che sarebbero potuti trascendere ed ora spazio al meteo nuovamente in diretta con l'informazione di Antenna Sud un 34enne di Magli in provincia di Lecce è finito agli arresti domiciliari per aver aggredito con una mazza il nuovo compagno della sua ex fidanzata che nello stesso a occasione ha schiaffeggiato più volte ad arrestarlo è stata la polizia con le accuse di lesioni personali aggravate violazioni di domicilio rapine e danneggiamento all'arrestato è stato applicato il braccialetto elettronico ai nostri microfoni ora il generale di brigata Pasquale Russo comandante provinciale della guardia di finanza di Bari l'attività svolta di recente dalla tenenza di Putignalo rappresenta un evidente e concreto esempio del dispositivo messo in campo quotidianamente dalla guardia di finanza a contrasto delle frodi nel settore dei bonus edilizi si tratta di un dispositivo come dicevo che ci vede impegnati ogni giorno un dispositivo che ci consente in primis di intercettare già attraverso l'analisi degli elementi che noi riusciamo ad acquisire tramite l'incrocio delle banche dati di cui il corpo dispone in modo tale da ammirare gli approfondimenti nei confronti degli operatori economici caratterizzati da sintomatici e concreti alert di rischio fiscale individuati questi soggetti noi procediamo agli ulteriori approfondimenti che possono essere sviluppati sia sul piano squisitamente amministrativo fiscale ma spesso come è accaduto anche nel caso dell'operazione di servizio della tenenza putignano anche attraverso il ricorso ai poteri di polizia giudiziaria perché emergono delle fattispecie penalmente rilevanti che ci consentono di mettere in campo ulteriori e più incisivi strumenti sia nella ricerca delle prove ma soprattutto degli strumenti più incisivi dal punto di vista dell'aggressione dei profitti illecitamente costituiti da questi soggetti che pongono in essere queste frodi si tratta appunto di un'attività a tutto campo a tutela delle risorse pubbliche a salvaguardia delle imprese oneste che rispettano le regole fiscali e più in generale nell'interesse della collettività ed ora parliamo del ferimento di una donna e della sua cagnolina da parte di due pitbull avvenuto per strada a Palese è costato 15 punti di sutura a una mano l'intervento disperato di una donna per proteggere sua figlia da due pitbull lasciati liberi in strada a Palese rione di Bari mamma e figlia passeggiavano con al guinzaglio una piccola cagnolina è successo nella giornata di mercoledì anche la cagnolina è stata aggredita e si trova ricoverata in prognosi riservata in una clinica veterinaria la donna per proteggere la figlia l'ha messa a riparo tra due autovetture in sosta ma non è riuscita a sottrarre se stessa dalla furia dei due pitbull che l'hanno azzannata a un braccio in precedenza pare fosse stata aggredita un'altra donna anche questa mentre si trovava per strada con il suo cane i due pitbull sono stati recuperati dal proprietario la polizia municipale sta valutando se denunciare l'uomo per omessa custodia ed ora parliamo del mondo della scuola in Puglia dalle pagine del nuovo quotidiano di Puglia in Puglia aule sempre più vuote persi 13.000 studenti in un anno il calo demografico si ripercuote anche sul numero di studenti da Foggia al Salento saranno 516.000 nel 2020 tra elementari medi e superiori erano 572.000 tutti in classe dal 16 settembre ma molte scuole apriranno prima per scelta così da recuperare qualche giorno in più durante l'anno saranno 516.808 gli studenti pugliesi chiamati in classe di questi 166.515 a Bari e provincia 51.000 circa nella Batta 48.000 a Brindisi e dintorni 79.000 nel Foggiano 97.000 in provincia di Lecce 73.000 nel Tarantino la quota dei ragazzi con disabilità riconosciuta è di 23.175 unità in un anno la Puglia ha perso 13.000 studenti colpa del calo demografico che continua a falcidiare le scuole e sono gli effetti della prima contrazione delle nascite avvenuta da 6 ai 10 anni fa negli anni seguenti la situazione sarà ancora peggiore basti pensare che nell'anno scolastico finito nello scorso luglio con gli esami di maturità e di terza media gli studenti pugliesi erano 529.044 a Bari concorso 2020 assunto solo il 3,3% sempre dalle pagine del nuovo quotidiano scatta dunque la protesta dei docenti ieri mattina a Bari davanti all'ufficio scolastico la protesta dei docenti idoni del concorso del 2020 in Puglia infatti soltanto il 3,3% della grudatoria è stato assunto alla manifestazione ha aderito anche la CGL Bari per chiedere l'immissione in ruolo su tutti i posti vacanti ma anche lo scorrimento delle grudatorie degli idoni la pubblicazione delle grudatorie degli idoni di tutti i concorsi e la sospensione di ulteriori concorsi fino ad esaurimento degli elenchi di quelli precedenti anche Giovanni Verga della Wille Scuola Puglia pone l'accento su questa vicenda che definisce assurda l'anno scorso è stata autorizzata l'immissione di tutto il personale mentre quest'anno tutto questo non è avvenuto e ci spostiamo in regione Fratelli d'Italia ha chiesto specifiche audizioni per quanto riguarda la gestione dei rifiuti in Puglia ma anche per quanto riguarda l'aumento della Tari una richiesta di audizione sulla mancata e chiusura del ciclo dei rifiuti e maggiori costi tari a carico delle famiglie pugliese è stata presentata da Fratelli d'Italia in consiglio regionale via la necessità spiega il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Tommaso Scatigna di inserire nell'agenda dei lavori della quinta commissione ambiente la discussione di questi temi il consigliere ha chiesto per l'occasione l'audizione del presidente Emiliano dell'assessore Trigiani del direttore del dipartimento ambiente Paolo Garofoli e il direttore generale Ager Angelo Pansini Fratelli d'Italia pone in evidenza la mancata attuazione di impianti pubblici per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti ad oggi l'assenza di termovalorizzatori pubblici in Puglia spiega Scatigna costringe la regione a conferire fuori dal proprio territorio sostenendo così costi di trasporto esorbitanti che gravano sui bilanci delle famiglie pugliesi e scatta la polemica ancora una volta sull'Amet a Trani ma anche sui provvedimenti varati durante il mese di agosto dall'amministrazione comunale e di nuovo polemica sull'Amet a Trani sui provvedimenti varati durante il mese di agosto dall'amministrazione comunale dopo il bando per la privatizzazione del servizio di gestione della sosta a pagamento arriva l'avviso pubblico per il rinnovo del CDA recentemente dimessosi facendo decadere l'AD dell'azienda entrato in aperto contrasto con il sindaco fortemente critico il centrodestra che auspica che non vengano invece riconfermati i consiglieri dimissionari e reintegrato l'AD fatto decadere mi sembra sempre tutto fatto ad hoc in determinati periodi dell'anno sotto natale periodo di ferragosto anche se poi dobbiamo dirla tutta la questione del bando dell'Amet sul consiglio di amministrazione è una vicenda che va vista un attimino a 360 gradi questi sono dei bandi tra virgolette farsa perché la gente poi fornisce curriculum però poi gli addetti ai lavori sanno benissimo come funziona e come andrà a finire che sarà a discrezione del sindaco quella dell'indicazione del consiglio di amministrazione dell'amministratore delegato componente presidente nella fattispecie io visto come è andato a finire l'ultimo consiglio di amministrazione mi verrebbe da pensare che sarà rinominato quale amministratore unico ammesso che presenti la candidatura di nuovo l'avvocato Angelo Nigretti perché lo scorso consiglio di amministrazione è stato l'unico da non essersi dimesso un senso vorrebbe che l'avvocato Angelo Nigretti tordi a ricoprire la carica di amministratore unico e i due dimissionari io credo che da dimissionari manco dovrebbero ripresentare la loro disponibilità a ricoprire tale ruolo l'appello che mi sento di rivolgere da cittadino nonché da consigliere comunale al sindaco è quello stavolta di badare bene ai curricula perché l'azienda oggi è un'azienda che ha bisogno di un rilancio importante ed ora parliamo di politico ovvero dell'amministrazione comunale di Bari dalle pagine interne del nuovo quotidiano giunta in affanno Movimento 5 Stelle l'ingresso resta un rebus mai detto noi all'opposizione è una in piena pausa di riflessione quella in corso nel Movimento 5 Stelle e Terra di Bari circa proprio l'impegno politico amministrativo che assumerà nell'ambito della maggioranza che sostiene il sindaco Vito Leccese il parlamentare tarantino turco ha precisato giovedì che i pentestellati sono parte della maggioranza dopo la scelta di Leccese di affidare la delega la trasparenza all'esterno 5 Stelle Raffaele Diomede poi dimessosi visti mal di pancia del movimento con i due consiglieri delle Fontane Carelli che hanno preso le distanze dalla scelta fatta dal sindaco che le aveva di fatto esclusi e lavori su via Liuzzi sicurezza impianto fognaro ma anche viabilità sono alcuni dei temi affrontati a microfoni di Antenna Sud dalla presidente Maria Chiara Adabbo Ascoltiamo quali sono le priorità del territorio del municipio 4 a Bari Abbiamo iniziato dalle strade abbiamo iniziato dalle buche e abbiamo iniziato anche dal fare un po' di verbali a chi appunto non rispetta il porta a porta che invece sta andando molto bene nel nostro municipio Quella appena menzionata è soltanto una delle tante sfide che attendo del municipio 4 nei prossimi anni ai nostri microfoni fa il punto della situazione la neopresidente Maria Chiara Adabbo altro tema caldo è quello dei lavori e delle rotatorie previste su via Trisoglio Liuzzi Sicuramente sarà la strada che noi attenzioneremo di più con le rotonde ma non solo inseriremo anche diciamo dei controlli che non saranno solo controlli di velocità ma saranno sicuramente per disincentivare la velocità su quella strada in più ecco è un'arteria importantissima del nostro municipio perché è la strada che riesce a connettere tutti e quattro i quartieri altro tema importante è quello dei lavori dell'impianto Fognario i lavori hanno avuto adesso dei blocchi sia per appunto il mese estivo e sia per altre questioni verranno sbloccati già nella prossima settimana sia quelli su via Vaccarella e sia inizieranno appunto quelli in piazza sono lavori fondamentali per il nostro territorio perché come sanno i cittadini la Fondia Bianca è un problema che in questi anni ci ha accompagnato e speriamo che questi lavori per quanto possano creare disagi in questi momenti ma porteranno sicuramente a un territorio che potrà fruirne in maniera effettivamente positiva e torniamo a parlare di sicurezza stradale lo facciamo attraverso l'emergenza evidenziata dalle pagine interne del nuovo quotidiano di Taranto l'emergenza si parla ancora una volta della statale 100 il tratto che in questi mesi ha registrato impatti mortali da qualche tempo sotto riflettori di Anas sono stati completati alcuni interventi ma è necessaria una riqualificazione dell'infrastruttura la rete viaria della zona occidentale Tarantina è danni alle prese con le problematiche legate alla sicurezza i diversi incidenti alcuni dei quali mortali hanno più volte richiamato l'attenzione delle autorità competenti in tal senso la strada statale 100 la parte tra Gioio del Colle e l'allacciamento la statale 7 Appia negli ultimi anni ha segnato un triste primato in termini di mortalità situazione migliorata in questi mesi estivi grazie al completamento ad alcuni interventi rivolti proprio alla regolamentazione del traffico nel breve medio periodo realizzati da Anas gli interventi hanno riguardato gli 8 km principali delle comune di Mottola interventi che insieme all'azione combinata con il rilevatore di velocità in fase di completamento da parte del comune di Mottola dovrebbe incidere sul comportamento dell'utenza per mitigare le problematiche verificate nei mesi scorsi ed ora parliamo dei lavori ripresi a Lecce da oltre un anno ripartono i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico di via Alvino ma anche di altre vie che prevedono necessariamente una riqualificazione del basolato rampe per disabili che sembrano semplici colate di cemento pugni nell'occhio in mezzo al basolato che rappresenta il passeggio della piazza più importante di Lecce lo stesso basolato che sembra già mostrare difetti tra buche e fughe già da rifare insomma i lavori su via Alvino dopo essere stati fermi per oltre un anno sono pronti a ripartire gli stessi oltre appunto su via Ernesto Alvino interessano via Verdi e via De Mocenigo per questi interventi che come detto nelle tre vie riguarderanno principalmente il basolato si partirà probabilmente già a settembre perché ci sono tempi da rispettare e si è in grande ritardo lo stesso vice sindaco del capologo salentino Roberto Giordano Anguilla con delega anche lavori pubblici fa sapere che modalità e tempistiche verranno concordate con gli operatori commerciali della zona per cercare di ridurre al minimo i disagi nell'occasione saranno accolte anche proposte di miglioramento dell'area cittadina interessata ed eventuali ulteriori disagi che gli stessi operatori commerciali potranno mettere in evidenza un cantiere quello di via Alvino che fin dal suo esorgio è stato accompagnato da tante polemiche tra le quali i commercianti chiedono solamente di poter svolgere al meglio il proprio lavoro e le cesi di preservare uno dei luoghi più belli e significativi della città ed ora parliamo del bazar della droga un fenomeno che sta interessando Bari e dalle pagine interne della gazzetta del mezzogiorno piazza Moro preda degli spacciatori fermato un barese di 16 anni migrante sorpreso con la cocaina aggredisce i vigili l'efficacia dei controlli dopo l'ordinanza comunale antidegrado Bari sta assistendo ad una stretta quotidiana delle forze dell'ordine che si sta rivelando efficace il fenomeno scrive la gazzetta del mezzogiorno una parte della criminalità straniera ha messo gli stupefacenti al centro degli affari e ingaggia migranti che muove come pedine sul territorio ed ora ci spostiamo nel Tarantino precisamente a Manduria perché ci sono dei vasi ornamentali che occupano una strada e scatta dunque la polemica tre grossi vasi sono stati posizionati al termine del vicolo stretto la storica e turistica strada che è d'accesso diretto a uno degli scorci più suggestivi di Manduria il ghetto degli ebrei è una famiglia pugliese lei di Manduria lui della provincia di Bari a lamentare questo blocco del lato Vico Marco Gatti dovuto alla presenza di un giardino allestito su questa strada i coniugi circa due anni e mezzo fa hanno acquistato un immobile che si affaccia proprio su questo tratto Vico Stretto è infatti una tappa turistica imprescindibile per chi desidera visitare il prezioso quartiere ebraico manduriano segnalato dal lato sud anche da un apposito cartello turistico la piantumazione però impedisce inoltre alla coppia di ristrutturare la facciata del proprio appartamento prima dei vasi in effetti furono installati dei cancelli in ferro che dieci anni fa il comune di Manduria ordinò di eliminare la proprietaria allora si oppose al tar che non concesse la sospensiva dell'abbattimento ma non si espresse sulla legittima proprietà di questo vicoletto una storia intricata e ancora senza una fine di fatto ad oggi a sostituire quei vecchi cancelli ci sono però i grandi vasi di piante e allora focus su quello che scrive la gazzetta di Basilicata Potenza e Matera fondi delle PNRR ecco come sono stati spesi si parla anche di infrastrutture ma anche politiche per quanto riguarda la salute un incremento delle risorse del 23% rispetto al primo monitoraggio della fine del 2022 ma nello stesso tempo alcuni ritardi e criticità legati all'inadeguatezza delle strutture amministrative e il quadro dei finanziamenti del piano nazionale di ripresa e resilienza attestati alla Basilicata che emergono dalla relazione sul PNRR del primo semestre del 2024 ed ancora abuso di droga la cronaca pestaggi e minacce è un luogo frequentato da malavitosi il questore chiude un bar a Matera si parla anche della crisi idrica predisposto il piano per le possibili interruzioni ed ora parliamo del caso degli aumenti assicurativi nella provincia della BAT la sesta provincia pugliese non sarebbe più la prima in Italia per furti d'auto eppure i rincari delle assicurazioni RC auto continuano ad andare in controtendenza rispetto alle altre province a luglio 2024 infatti i premi medi per assicurare un'auto nella BAT sono aumentati dell'1,9% su base semestrale arrivando ad una media di 757 euro vale a dire circa 14 euro in più rispetto a gennaio 2024 un andamento in controtendenza appunto rispetto alla media regionale dove nello stesso lasso di tempo le tariffe sono persino calate del 2,5% ovvero circa 18 euro in meno i dati arrivano dall'osservatorio facile.it un report che ha evidenziato un trend al ribasso in quasi tutte le province pugliesi in alcuni casi con riduzioni vicine alla doppia cifra percentuale questo a sola eccezione delle province di Lecce e della BAT io l'ho rinnovata ad agosto e ho trovato un aumento per fortuna non era molto e ogni volta che vado a fine contratto trovo sempre aumenti effettivamente la mia è aumentata anche se sto alla prima classe sempre tra gennaio e luglio 2024 anche in Italia mediamente è stato registrato un incremento delle tariffe del 2,8% ma va anche detto che la media italiana dei costi assicurativi a luglio 2024 è di 629 euro mentre nello stesso mese nella BAT la media è di 757 euro sempre in Puglia i cali più significativi dei premi medi sono stati registrati nelle province di Bari e Taranto Foggia e la BAT sono le più care della Puglia e dalle pagine interne della Gazzetta di Lecce e il titolo Cambiare nome alle marine servirà a un referendum l'idea di indicare le frazioni sotto la dicitura Lido di Lecce Lecce Lido piace al Comune di Lecce e compare in un documento ufficiale si tratta di Lecce Lido San Cataldo Festival la denominazione compare nella narrativa dell'ordinanza del 22 agosto scorso relativa all'attivazione del centro operativo comunale per la gestione dei festeggiamenti per i santi patroni Ronso Giusto e Fortunato che quest'anno avuto una durata di 5 giorni con il coinvolgimento delle marine una denominazione riportata in una segnalitica posta all'ingresso di San Cataldo lo scorso 27 agosto sulla quale il sindaco Adriana Polibortone ha aperto un possibile spiraglio e un'idea sulla quale si può ragionare una volta consultate le associazioni e i cittadini che abitano lungo la costa per l'ex sindaco di Lecce Carlo Salvemini la questione posta in questi termini pare essere materia per uno spot qualcuno ha ritenuto di rinominare con apposita segnalitica San Cataldo in Lecce Lido non ci è dato sapere al momento chi e perché ha voluto questo nuovo toponimo né quindi se si tratta di un'estemporanea iniziativa di sconosciuti o di un'iniziativa propria dell'amministrazione comunale la trasformazione dei luoghi è un processo non uno spot richiede visione progetti e finanziamenti dichiara l'ex sindaco di Lecce Carlo Salvemini da qui parte la rivendicazione delle azioni messe a segno dalla sua amministrazione per le marine che invece sono state la spina nel fianco nella mancata rielezione a partire dalla mancata apertura del seggio elettorale a Frigole che pur non essendo responsabilità è stata percepita come sua scarsa attenzione alle marine e oggi la chiesa salentina festeggia la venerabilità di suor Teresa Lanfranco Santa Maria di Leuca e Gallipoli in festa per la venerabilità di suor Teresa Lanfranco questa sera nella basilica pontificia si svolgerà una solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Ugento Monsignor Vito Angiuli prima serata di festeggiamenti a Brindisi in occasione della festa patronale e questa sera la suggestiva processione a mare ma anche i discorsi del sindaco del vescovo tutto in diretta su Antenna Sud Extra a partire dalle 18.55 L'accensione delle luminarie dà il via la parte più intensa dei festeggiamenti per i santi patroni nella città di Brindisi l'accensione come da tradizione avviene al termine della processione che dalla chiesa cattedrale giunge al Tosello con la statua di San Piodoro a cavallo e San Lorenzo da Brindisi dopo la sosta presso Palazzo di Città dove il sindaco accompagnato dalla giunta fa un omaggio floreale a due santi patroni ci siamo siamo pronti per godere di questi giorni per cercare di essere quanto più vicino possibile ai nostri ai nostri santi patroni a Teodoro da Masea a Lorenzo da Brindisi vogliamo venerarli davvero con tutto il fervore della fede sarà un'occasione bella per pregare insieme per affidare tutta la città per chiedere al Signore attraverso l'intercessione dei santi la benedizione sulla vita di tutti i nostri concittadini e a chiudere la serata delle acque del porto di Brindisi la rievocazione dell'arrivo delle spoglie di santi odoro da Masea con il palio dell'arca aggiunto alla sua ventinovesima edizione e tra la competizione dei cosiddetti schifariedi tra il villaggio pescatori e le sciabiche a vincere quest'ultimi con la storica famiglia Romanelli Romanelli come due faine due con bellissime orbi devono toccare la panchina vincere all'ultimo momento padre figlio c'è niente da fare ed ora facciamo un bilancio con i commercianti a chiusura della festa patronale di Lecce un vecchio adagio recita passato il santo passata la festa e così mentre Lecce e il suo centro storico riprendono la solita routine quotidiana abbiamo chiesto ai commercianti di zona di tracciare un bilancio sui cinque giorni di festa di Santoronzo appena conclusi la festa è stata molto bella e poteva migliorare magari qualcosina un pochino sulle luminarie su qualcosina diciamo di diverso però è stata molto bella c'è stata gente siamo contenti la festa ha rappresentato un po' quello che era il canone degli anni passati quindi diciamo che la nuova amministrazione ha conservato secondo il mio modesto avviso quello che era stato praticamente il filo conduttore della vecchia amministrazione quindi strade pulite la gente camminava tranquillamente le bancarelle devo ammettere che sono state sistemate in un modo decoroso poi il fatto che ci sia stata la giunta di due giorni è stata per me una cosa positiva anche perché ho toccato praticamente il fatto che a San Cataldo c'era un bel po' di gente quindi diciamo è stata una cosa positiva per i commercianti soprattutto di San Cataldo che erano stati secondo me un po' trascurati negli ultimi anni passata la festa di San Toronzo cosa le è piaciuto di più cosa le è piaciuto di meno come è andata insomma questa edizione è andata benino visto il tempo per organizzarsi è stato molto poco quindi è andata bene dai credo che il comune ne possa essere ancora orgoglioso insomma di questa festa termine qui la prima parte del nostro TG linea le notizie sportive nuovamente in diretta con il TG approfondimento rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo